Buongiorno, ci stiamo interrogando su questo idalicum, su questa legge, non ci si capisce granché? Una legge che fa passavanti rispetto al Porcellum, ma ci sono tanti aspetti da migliorare, alcuni li abbiamo migliorati, altri dobbiamo migliorarli, nonostante i vetti di Berlusconi, penso in particolare alla rappresentanza di genere, dobbiamo assolutamente votare l'emendamento che consente l'avvicinamento alla parità di rappresentanza e nonostante i vetti di Berlusconi dobbiamo farlo. Ieri ho sentito nel corso del dibattito la dichiarazione di un parlamentare che sottolineava un carattere particolarmente strano di questa legge, diceva che addirittura nel Trentino Alto Adige, in Val d'Aosta si sarebbe conservato il sistema, non avrebbero votato con questa nuova legge, ma avrebbero votato utilizzando il Mattarellum. Sono due regioni a statuto speciale che hanno una legge elettorale diversa, è stato così da tempo. Quindi pure in Sicilia? No, sono alcune regioni a statuto speciale che per le presenze di minoranze linguistiche, per le specificità che hanno, hanno una particolare legge elettorale. Buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie.